Salve, come andiamo? Tutti bene? Ah, non ho volto, ok. Carline mangiato, ho fatto pure, ok. Questo primo giorno d'agosto ricardo, il 12 agosto, o per temporali, e forse arriveranno altri temporali, così mangiare il topore, non so. E dopo una lunghissima tempesta, la mia vita, è risolto di nuovo il sole. Cosa vuol dire? Non è che è risolto il sole del tipo che sta cominciando piano piano e non è un amico o un'amica sola, ci sa come una volta, ma ho, diciamo, delle mie panze. E sinceramente, preferisco così. Vado avanti, eccola. Vado avanti con la mia strada, non pongo indietro le cose brutte, non voglio più passare. Ho capito tante cose da questi giorni e vado avanti così e sono felice così, sono contento molto. Vado avanti con la mia vita, anche perché io sono riuscito, dopo la situazione, a testata. Quindi, quello fece così. Le decisioni, le ha presi, le ha presi a quella persona. Non è un problema così. E' vero che, ogni tanto, mi scuolo su Facebook, che sono un tipo che dico Pana Pana Villino, no? E su Facebook non è che dico Tabele Azioni, io metto i nomi, anche se i link sono un po' brutti, Cosa rispetta il futuro? Il futuro rispetta un grande punto interrogativo, la continuazione Quello del canale, sì, quello sì anche, quello che andiamo avanti del canale sia mio che quello del mio socio Cioè, così come lo andiamo avanti andiamo avanti Per divertire, pertanto non ne ho Sono ancora cinque giorni di vacanza, poi torno a lavorare Sono felicissimo per questo, avrei paura, avrei casino, neanche poi Per colpa mia, per colpa di qualcuno, vabbè, ciao Sono molto contento che chi mi sta conoscendo mi è vicino Soprattutto la ragazza della Sardegna E' una donna di Cesena Come lo andiamo a pensiamo, non prenderà il posto di nessuno Non posso dire che prende la persona di vita che non sarebbe giusto Non sarebbe giusto per la prima lì, che era il passato Adesso penso a altre persone E perché no, a futuro Guardate qua lì, portate un po' lì Ah, nei miei canali Nei miei canali metterò un po' di film Sketch, quello che c'è Ok? Grazie per la vostra collaborazione Grazie per la vostra visualizzazione E saluto in modo particolare agli altri utenti YouTube Meno che Giuseppe Simon A lui Se sparisce, come ha detto sui social network L'umanità ti sarà creata Ciao ragazzi Alla prossima